Si io fu ero diputato, se io un tipo mi ero intenzionato, se io un tipo mi ero intenzionato, promoveria la industria, se non mi dà la cempea del mercato. Si io se cargherà, se inseriria il servo, si se repite, ho seguirà una novia, parà non andare cutando al escondite. Por eso non sono, mi diputato, mi cardenà, che mi dà la cempea del mercato. Il servo di Inglaterra, il servo di revolver le tigre, il servo di l'acqua.